Non vi preoccupate, tornerò. Secondo me c'è qualcuno. E quello chi è? Tu chi sei? Chi è quello lì? Ma quello è Rob Ryan? No, sono io. E tu chi? Guarda, mi chiamo sopra la testa. Mi hanno dato un nome sopra la testa. Ciao. Io non ti conosco, chi dovresti essere tu? Ah, a quanto pare è una cana. Creeper! Non andare in casa mia! Non faccio entrare degli sconosciuti. Oh, torna qui! Sì, torno, aspetta. Voglio vedere solo un po' le... Ero blind, eh, mi ha detto che hai dei cani. Lo sai, molti belli. Fammi rivedere. No, stai fermo! Che belli! Ve li posso colare? Aia! Per il futuro ti ho sempre una spada in diamante con me. Non te l'aveva detto questo, eh? Aia, scusa, scusa. Ma Wolfichio, dite questo pazzo, ti vuole far del male! Fermo! Ok? Noi siamo solo cari amici! Piacere! Sono il tuo penno, non lo so! Ecco qua, non ci ci darà fastidio! Lo dirò a tutti i miei amici! No, 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 ok, ok, non ti uccido più. Ok. Allora, però, se proprio vuoi stare qui, non puoi ancora entrare in camera mia. No! Devi in casa mia, devi superare una prova. Ok, seguimi in miniera! Seguimi qua in miniera! Perché lasci? Lagghi! Seguimi di qua in miniera! No, sto laggando! Non si entra lì! Entra e trova a miniera il petto! Vai, ti braccio il piccolo! Perché? Non sono il tuo schiavo! No, no, seguimi, eh sì! Farti qualcosa in legno e vieni che c'è una miniera qui, ti aspetto io qua. E dai un piccone! E crafterlo con il legno! Quanto tempo è passato? Avrà finito coso? Coso, hai finito? Ehi, sto qua! Ah, sei qui, hai finito? Fammi del tuo piccone! Ecco, lo ho qua! E ora seguimi, andiamo in miniera! C'è un problema! Quale? Che non mi ricordo come si cammina! Allora, vieni, seguimi! Vuoi di sì? Qua! Ok! Sì, qua! Allora, qui c'è la miniera! Eccolo qua le scale! Ah, ah! Tutto ok! È morto? No! Vivo? Vado un attimo da due cani! Ok! Oh, c'è un gattino! Dov'è? Là, c'è un gattino! Chissà da quanto tempo starà lì e non ce ne siamo mai accorti! Buve! Cosa è quello? Una porta? Una casa? Questa, dici? Sì, cos'è? Andiamo, non lo so! Di chi è? Io ci sono! Lollo, non lo so! Aspe, c'è un cartello! C'è un cartello! C'è un cartello! Base segreta di Gianfranco! Sì! Sì, sono io! Gianfranco! Eh? Sì, proprio io! Lollo, dove hai messo l'oloso? Che cosa c'è? Sta un tizio qua giù che si chiama Gianfranco! E lì c'è un gattino! Non ti interessa! Sei un hater, commetto! Io? Un hater? Un hater io? Ma stiamo scherzando! E poi tu? Cosa ci fai, cosa mia? Ma non è casa tua! Sì? Non ho letto il cartello? Base segreta di Gianfranco! Base segreta di Gianfranco! Non le lecce il cartello? No! E allora leggilo ora e va a tenere la casa mia! Va bene, me ne vado! Però, non lo so, deve ancora rimanere! Ho una sorpresa per me! Come si chiama? Wow, bellissima sta casa! Chissà di chi sarà! Vai! Oh! Che c'è? Sei tu qua? Sì! Eh, vuoi sapere di chi è? Ho incontrato Gianfranco, non so chi, ha detto che ti aspettava una sorpresa! Gianfranco? Eh, ha detto che ti aspettava una sorpresa! Oh no, sono caduto! Ci rincontriamo! Come? Gianfranco? Che ci fai tu qui? Sei tornato! E non sono... E non sono... E non sono... Da solo... Ci sono anch'io! Ecco, ci sono io anch'io, solo che sono troppo di scatto a scovare pietra! Quindi... L'oloso è il momento che... Noi andiamo a fare una riunione segreta, quindi... Ragazzi, vedete la base segreta? Sembra che stia già dormendo lui! Stai già dormendo? No! Perché? Devo dormire! Sì, se vuoi puoi dormire, cioè è notte, qua c'ho un letto! Guarda che se non dormi tu qui, potrai dormire qui... Ah! Luca qua è letto di Gianfranco e... Ed è... Ed è... Beh, ma io se non te lo dico! Perché? Ho sentito il rumore di porta aprirsi! Di Erbren dice! No, secondo me c'è un villaggio vicino! No, pure Andy l'ho sentito, tu? Vabbè, ci sarà un villaggio vicino! Eh! Erbren, no! Sei stato... Rapito da Erbren? No, Andy! Disconnesso dal server! Ti hanno... Ti devo aver rapito! Premo ok, vediamo che si... Oh! Vabbè, questo è pazzo! Ok, ti provo ad entrare, ok Andy? Sì! Eeeh, entra! Questo è sparito! Sì, riesci a rientrare... Con cuore, Erbren è un mio amico! Beh! Peccato almeno! Mi sembra che l'abbia cacciato! Perché l'abbia cacciato! Donno! Almeno penso sia un mio amico! Donno, donno! Credo sia un mio amico! Perché abbiamo sentito problemi delle porte aprirsi! Vero? Spero sia un mio amico! Eh, no, è perché sono i miei... Sono Wolfie e Waffle! Wolfie, Waffle! Voi avete sentito qualcosa? Wolfie, io in realtà ho sentito il ruore di porta aprirsi! Beh, io anch'io ho sentito il ruore di porta aprirsi! E poi ho sentito un tizio chiamato di GameArch... GameArch scritto male! Che diceva... Erro blind! Quindi... Vabbè! Dormi! Dormiamo! Edorm! 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 Vabbè, oggi non succederà più niente! Ho rapito il tuo amico! Vieni al laboratorio e ne riparleremo! Firmato! Erro blind!